Ciao Gianluca Spadoni, buongiorno! Allora, dal 1959, era dal 1959 che non eravamo in deflazione, sono appena usciti i dati ufficiali, per la prima volta dopo quasi 70 anni siamo in deflazione, abbiamo vissuto un anno di deflazione. Cos'è la deflazione? È la più grave malattia economica che possa esistere, ovvero è la scommessa da parte delle persone che le cose andranno peggio, è la scommessa sul fatto che oggi una casa costa 100 e che quest'altro anno la si possa comprare a 98 e siccome tutti credono questo, la maggior parte delle persone credono questo, veramente fra un anno costa 98 e quindi siccome costa di meno, tutti pensano che l'anno dopo possa costare 96 e così via. È una profezia che si autovera, è una scommessa sull'involuzione delle cose. Noi sappiamo molto bene che l'economia ha bisogno di fiducia e che la deflazione è invece la sfiducia più totale, è il nero, il grigio davanti a noi. Perché ti parlo di fiducia? Perché vorrei che una volta per tutte fosse chiara questo, noi non vendiamo né prodotti né servizi, parliamo di denaro ma il denaro fondamentalmente non esiste, è una convenzione, quando noi abbiamo in mano una banconota non abbiamo in mano denaro, abbiamo in mano una convenzione fiduciaria su quello che quella banconota rappresenta. La banconota da 100 euro in realtà magari vale 10 centesimi, i 99 euro e i 90 centesimi di differenza sono dati dalla fiducia che abbiamo nell'emittente, in questo caso nella BCE. Parliamo di fiducia, è questo quello che scambiamo, è questo il vero valore. Vorrei che adesso che iniziamo un anno nuovo e ci apprestiamo a voler cambiare delle cose, ci rendiamo conto che il primo grande valore che noi scambiamo è la nostra credibilità. vuoi valere di più? Aumenta la tua credibilità, vuoi ottenere di più dal mercato, più risultati? Aumenta la tua credibilità e la credibilità non arriva dal cielo, la credibilità va costruita, va guadagnata, tu vali tanto quanto sei credibile.